Andrea pronti, Marco pronto, la famiglia tutta pronta a giocare, ghigliottiniste e ghigliottinisti per 200.000 euro Marco comincia a scegliere fare mare mare ghigliottina bene adesso privato segreto segreto ghigliottina sì ma adesso vediamo cosa sceglie il nostro campione ore amore amore ghigliottino calma ritroviamo la strada giusta per le scelte vento pavimento vento ghigliottino non vi mollare Marco troviamo un guizzo e non dimenziamo più mare segreto ore pavimento occhiali cappello 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 questo è solo un gong per ricordare a Marco che c'è un tempo così più o meno ha sensibilità per scegliere cappello di cochigliottina giocheremo per 25 mila euro mare segreto ore pavimento occhiali Marco buona fortuna dai 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 non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E quindi avete il vantaggio di poter ancora mandare un messaggio a Whatsapp oppure Twitter, ereditiere, ereditieri, ghigliottiniste, ghigliottinisti, ti puoi levare la cuffia. Mare, segreto, ore, pavimento, occhiali. Io scarto la nostra piastrella che stasera vale 25.000 euro perché sopra c'è scritta quella parola là. Guarda come si piega, non curva. Mamma mia, pecco bagnaia. Allora, mare, segreto, ore, pavimento, occhiali. Prego Marco, professore, leva in cattedra, io mi godo lo spettacolo. Mi ero acceso di un certo entusiasmo con le prime due perché pensavo che la direzione fosse quella che c'era anche nella mia testa. Quale parola? Con mare segreto pensavo ad alto e poi ore me l'ha frantumato. Andare in alto mare è un alto segreto? Sì, un alto segreto di Stato. Sì, sì. E poi io dico, ore non ci stava più, men che meno con gli altri, quindi ho cambiato rotta e poi mi sono perso in mare, sono smarrito e ho scritto un'altra parola, confusione, tanti appigli differenti. Alla fine quale parola diciamo, mentre ti perdevi in mare, qual è la parola che ti ha fatto un po' da boa, da salvagente, da sebella? Io ragionavo su pavimento perché secondo me quel pavimento lì è quella che ha, credo, meno attinenze delle altre e cercavo di acchiapparne una. Mi veniva solo pavimento pelvico ma non poteva essere pelvico e quindi mi sono fatto ammagliare dalla parola ingresso, poi l'ho cancellata perché ingresso poteva anche starci, il pavimento dell'ingresso, un ingresso ad ore, un ingresso segreto, ingresso in mare. Bello! Dove ho messo gli occhiali a mo' all'ingresso? All'ingresso, ti fate i suoi occhiali non ci stavano. Ragazzi è la vita, siamo noi, la ghigliottina, poi si cena, si guarda il TG1. E poi mi sono fatto, mi sono adagiato, mi sono seduto su una parola... Bella? Che ti piace? È una bella parola ma non... È una bella parola, al di là che sia quella giusta, e ho scritto quella. Ponte! Sì, perché... Ed è bellissima come parola, in questo mondo chiuso, di guerra, di persone che si fidano, di gente che dice no, rimannamoli via, diciamo che dobbiamo essere ponte, ponte, come dice un gallo, dice quando sbraccio i muri vanno giù, dobbiamo costruire i punti. Ponte sul mare, un ponte segreto, non so quanto possa essere, magari in un giardinetto. Ponte a ore, sbrigiamo Samu, con chiudere. Ponte a ore, vai. C'è crisi. Ponte a ore. Ponte a ore. Ponte a ore, ponte a ore, ponte sulla nave, c'è il pavimento, la barca, e poi i classici occhiali che li metti solo sul ponte. No, il ponte a ore. Ah, il ponte a ore, certo, certo, perfetto. Io però ti dirò una cosa, che ore invece la leggo ai miei prof, ai miei nipoti fantastici, una l'artista, lei, anche se si chiama lui di cognome, è costretta dalla sua straordinaria avventura a tale quale. Invece lui è solo vanità, lui è narciso, ma tutti e due, ore e ore, prove. Le prove lei, lui proprio lascia perdere, magari ballerebbe così uno che, we are family, no. Sì, Dalila, sì, lo insegue per ore, qua nei corridoi, ma salutiamo Dalila. Ore e ore allo... Eh sì. Allo? Allo specchio. Allo specchio. Lui solo per disse da solo quanto so bello, quanto so bello, quanto so bello, so bello. Eh sì, sì, certo, certo, certo. So bello solcerello, so bello solcerello. Bello, bello. Il mare, il mare è uno specchio, è una tavola ma anche uno specchio. Specchio segreto, la televisione, quella grande, fenomenale, quella appunto delle Candide, parte con un genio, Nanni Loi. Specchio segreto, l'anno era il 65. Ho detto tutto, ho detto tutto. Nasceva la grande televisione, anche Cerelli dice niente, già staccati i cortelli. Pavimento, tirato luce. Passare ore davanti allo specchio, Samira per professione e talento, quell'altro come Narciso. Questo pavimento, guardate vi faccio le reclami di una volta. Amore, ma che hai fatto? Questo pavimento è uno specchio, non riesco, mi ci vogliono gli occhiali a specchio per guardarlo. E aspetta, perché noi siamo degli eterni bambini, ti aggiungo in regalo la sesta parola del maestro Angelo Santoro. Riflesso, specchio riflesso, tutto quello che mi dici torna a te. Specchio riflesso, è lo specchio, è lo specchio. Ci riproviamo con il nostro fantastico...